Vediamo adesso altri tre predicati che sono molto utili per lavorare con le liste. Cominciamo da un predicato che definisce l'operazione di cancellare un'istanza di un elemento dalla lista. Cioè abbiamo una lista, vogliamo togliere un certo elemento e come si fa? Allora, possiamo definire dichiarativamente questa operazione con una clausola, con un predicato che ha due clausole, come al solito una clausola che rappresenta il tappo della ricorsione e una clausola ricorsiva. Cominciamo con il tappo. Se io voglio cancellare un elemento, x, da una lista dove quell'elemento compare nella testa, bene, quello che ottengo è la coda della lista. Quindi posso definire questo predicato a tre argomenti. Il primo argomento è l'elemento da cancellare, il secondo argomento è la lista da cui cancellare quell'elemento e il terzo argomento è la lista che si ottiene cancellando quell'elemento dalla prima. Quindi dicevo, il tappo della ricorsione potrebbe essere questo qui. Se voglio cancellare x da una lista che ha x come testa dell'elemento, quello che ottengo sarà la coda di quella lista. Se invece voglio cancellare un elemento da una lista che non ce l'ha in testa, quell'elemento lì, ciò che ottengo sarà una lista con la testa inalterata, ma con la coda diversa, perché la coda cosa sarà definita? Bene, la coda sarà quello che ottengo dalla coda della lista originaria, togliendo in essa l'elemento x. Quindi, posso quindi da farmi il mio predicato, cancella, che sostanzialmente è quello che abbiamo appena visto. Compiliamo e poi andiamo a fare delle prove. Scriviamo, per esempio, cancella l'elemento A, ad esempio, da una lista che ce l'ha magari due volte dentro. Dimmi cosa otteniamo. Allora, se cancelliamo A dalla lista A, B, C, A, ciò che otteniamo è la lista B, C, A, con il predicato che abbiamo appena definito. Se chiediamo un'altra soluzione, otteniamo la lista A, B, C. Cioè, se chiediamo un'altra soluzione, niente. Cioè, in pratica, cosa ha fatto questo predicato? Ha trovato due istanze dell'elemento A all'interno della lista A, B, C, A. Nella prima soluzione ci ha tolto la prima istanza, che sostanzialmente corrispondeva a aver manciato direttamente con la clausola non ricorsiva della decisione del predicato cancella. Con la seconda, invece, ci ha andato a togliere l'ultimo elemento, la seconda istanza. Se ne avesse avuto più distanza, avrebbe dato più soluzione. Possiamo anche provare a lanciare lo stesso predicato con lo stesso colco, il primo elemento non istanziato. E cosa succede? Succede che cancella prima A, poi B, poi C, poi ancora A, ma la seconda istanza. E poi basta, perché erano quattro gli elementi, le istanze di elementi che comparivano nella lista, più di quattro soluzioni non poteva restituire. Posso anche provare a fare altro, per esempio a dire, guarda, la lista che vado ad ottenere è questa. Facciamo così, è più semplice. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo lanciato lo stesso predicato cancella, però l'abbiamo usato in maniera inversa. Cioè abbiamo supposto che abbiamo dato la terza lista, quella che deve essere il risultato della cancellazione, già istanziata. L'elemento da cancellare è già istanziato e invece la lista da cui togliere l'elemento è non istanziata. In pratica così facendo abbiamo usato il predicato alla rovescia. Cioè abbiamo che l viene istanziata alla lista che avremmo voluto ottenere togliendo l'elemento, più l'elemento che volevamo togliere. Inserito sequenzialmente la prima volta al primo posto, la seconda al secondo posto, la terza al terzo posto, la quarta al quarto posto. Quindi abbiamo che il predicato cancella, usato in questa maniera, diventa anche un predicato per inserire elementi in una lista. Bene. Infatti, il predicato inserisci può essere implementato così o può essere implementato in questa maniera. Andiamo a vedere. E in pratica stiamo facendo sostanzialmente la stessa cosa. Inserire un elemento dentro una lista significa metterlo al primo argomento e questa è la testa. Oppure inserire un elemento in una lista produce una lista che ha, se non lo mettiamo in testa, lo mettiamo in un altro posto, che ha l'elemento che c'era prima nella testa, più avrà una coda diversa e la coda sarà ciò che si ottiene inserendo l'elemento dato nella coda della lista dove lo dovremo andare a inserire. In pratica, questo modo di implementare l'insert non è altro che l'inverso di cancella e noi abbiamo usato il cancella all'inverso e quindi adesso non ci meraviglieremo se abbiamo lo stesso risultato, vogliamo andare a inserire 1 nella lista A, B, C. Cosa otteniamo? Otteniamo 1A, B, C A, 1, B, C A, B, 1, C A, B, C, 1 e basta. In pratica, potremmo anche tenere solo il cancella il funzionamento è perfettamente analogo solo che in questa maniera sarà più esplicito nel programma a cosa serve il predicato insert. Ancora Un predicato utile nell'insimistica è il predicato che ci va a determinare una sottolista di una lista. Se la lista la usiamo per rappresentare un insieme, la sottolista potrà essere utile per trovare un sottinsieme. Dunque, definiamo il predicato sottolista in questa maniera. Sottolista ha due argomenti La prima è la lista grande dalla quale vogliamo derivare una sottolista e la seconda è la sottolista che vogliamo derivare. In che relazione saranno fra di loro sottolista e lista? Come possiamo determinare questa corrispondenza? Possiamo ragionare in questa maniera una... 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 Beh, il contrario di quello che sta scritto qui Adesso sto notando che mi pare di capire che il professor Bratto si è sbagliato l'ordine qui Comunque, in generale, se noi abbiamo una lista L grande Una sottolista di L, S, in generale La possiamo determinare così, in questa maniera Concependo innanzitutto la lista L come concatenazione di due liste L1 e L2 Qui abbiamo L1 e tutta questa qui è L2 Allora, concatenando L1 con L2 abbiamo L Dopodiché, la L2 la possiamo pensare come concatenazione Della lista S, che è sottolista di L Quella che vogliamo determinare Determinare ed L3 Che è un'altra lista Quindi, adesso noi cosa possiamo fare? Per fare degli esperimenti Lo prendiamo, questo predicato Vedete che non ha neanche una struttura ricorsiva È semplicissimo questo predicato Lo portiamo nel nostro ambiente di lavoro E andiamo a fare degli esperimenti per vedere come funziona Intanto, come forse avevamo notato anche prima Già si vede che l'editore ci fa notare che qui abbiamo Era evidente anche prima Abbiamo L1 Che compare una sola volta nella definizione di questo predicato Non solo L1 Non solo L1 ma anche L3 E quindi L'editore ci suggerisce Di utilizzare al posto di L1 ed L3 Un underscore Una variabile muta Una variabile muta Perché tanto Quelle due liste Non saranno coinvolte Nella 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 refutazione E poi Dobbiamo utilizzare Al posto di conch L'appendo ovviamente Allora vediamo Salviamo il buffer Compiliamo E adesso Proviamo a vedere come funziona Sub list Vogliamo determinare una sottolista Di Supponiamo A B C D Intanto La prima sottolista Di una lista È la lista vuota Anche la lista che contiene il solo elemento A È una sottolista La sottolista che contiene A B È una sottolista La sottolista A B C È un'altra sottolista Tutta quanta è una sottolista Ancora di nuovo La lista vuota Poi la lista che è A B La lista che è A B C La lista che è A B C D La lista che è A C La lista che è A C D La lista che è A D E poi E poi basta E la lista vuota È stata ripetuta Tre volte Inutilmente È stata trovata quattro volte E quindi abbiamo Tutte le sottoliste Sono elencate lì In quella soluzione L'abbiamo trovata tutte quante Imponendo ogni volta Il risoddisfacimento Un ultimo predicato importante Per lavorare con le liste È il predicato per fare la permutazione di una lista Cioè noi vogliamo determinare Data una lista Noi vogliamo calcolare Generare Una sua permutazione E quindi possiamo fare così Possiamo dire Fare un predicato Con due argomenti Dove il primo argomento È la lista che vogliamo permutare E il secondo argomento È la lista permutata Intanto Come lavoriamo Così Definiamo subito Il tappo della ricorsione Chiaramente avrà una struttura ricorsiva A questo predicato Possiamo semplicemente dire Che la permutazione di una lista vuota Produrrà la lista vuota Questo è sicuramente il tappo della ricorsione Dopodiché Se andiamo a permutare Una lista Che ha un certo elemento nella testa Quello che otteniamo Sarà una certa lista permutata Che sarà definita in questa maniera Prendiamo la permutazione Facciamo la permutazione della coda E otteniamo Un'altra coda E poi Se andiamo a Utilizzare l'insert Per inserire La testa Che abbiamo tolto All'interno della coda permutata Quello che otteniamo Sarà la lista Permutata Rileggiamo Una lista permutata A partire da Una lista che ha una testa e una coda La possiamo Pensare così Sarà una lista Che si ottiene Prendendo la coda Della prima lista E facendone una permutazione E poi andando a inserire In maniera non deterministica Perché vi ricordo Che l'insert Avete visto Inserisce la prima volta Nel primo posto La seconda nel secondo La terza nel terzo La quarta nel quarto E così via Quindi Ha una soluzione non deterministica Andiamo a utilizzare L'insert Per inserire La testa Che avevamo tolto All'interno della coda permutata Quindi qui abbiamo Una permutazione La coda è permutata Andiamo a inserire Il primo posto Secondo posto E così via Atterremo la lista Permutata Salviamo E andiamo a lanciare La nostra La prima volta La permutazione coincide Con la lista stessa Perché In pratica Abbiamo permutato La lista vuota E quindi Non abbiamo avuto Nessun cambiamento Se andiamo Creiamo altre Andiamo a cercare Altre soluzioni Abbiamo Abbiamo Vedete BACD Queste che sono Elencate E trovate Per risoddisfacimento Sono tutte le permutazioni Della lista Originaria Alternativamente Potevamo Potevamo Utilizzare Invece che L'insert La cancellazione Ma più che altro La cosa più interessante È che Potevamo Mettere La permutazione La chiamata ricorsiva In coda Potevamo Al solito Cambiando L'ordine De goal In teoria La soluzione Non dovrebbe Cambiare Qui però L'insert Dobbiamo Cambiare Ovviamente Questa deve essere Coda Permutata E questa Lista Permutata Salviamo Compiliamo Lanciamo Di nuovo Il goal Questa volta Con permutazione 2 E va In loop Adesso Bisogna Capire Perché È andato In loop Però Il tempo È scaduto E quindi Capire Perché è andato In loop Lo lascio Come esercizio Ovviamente Per capirlo Bisogna fare Il loop Il trace Di permutazione 2 Vedete Che abbiamo Sforato Lo stack Questi Predicati Che Sono rimasti Qui Sull'ambiente Di lavoro Saranno Utilissimi E li dovete Usare Tante volte